si può costruire un progetto permettendo ai professionisti di comunque interagire con la rete facendo semplicemente un contratto di partnership o cose anuale esterne. Allora, se due parole sono pubblica amministrazione, allora chiaramente l'ente pubblico tradizionale a parte che ci sono altri strumenti non può fare rete, tuttavia le società privatistiche di emanazione pubblica, a capitale maggioritario pubblico lo possono fare, quindi potrebbe essere una probabilità anche in ottica di gestione dei rienti pubblici, governo dei rienti pubblici, sinergie fra i rienti pubblici. Allora, sul programma di rete, chiaramente i diritti degli uomini delle parti, un aspetto importante è quello di trovare un modo per indicare la modalità di misurazione del raggiungimento degli obiettivi. Allora, nel programma noi ci siamo dati degli obiettivi da raggiungere, che devono essere l'ottica fondamentale, finale dell'invenzamento della capacità contributiva, però il legislatore dice, la legge dice, tu mi devi anche dare un criterio del contratto per poter misurare il raggiungimento, l'avvicinamento a questi obiettivi e in qualche maniera lo devi, come dire, poter dimostrare. Voi mi direte, ma perché adesso questa cosa qua, questa è una bella domanda, ci sono diverse teorie a riguardo, ad ogni modo sappiate che c'è questa cosa qua che è un elemento importante, obbligatorio. Allora, sulla forma del contratto, abbiamo tre forme in sostanza, l'atto pubblico, la scrittura provata privata, l'autenticata, scusate. Allora, questo vale solo per la rete di contratto, però è importante, allora, la procedura tematica di registrazione senza passare dal notario, solo per il caso della rete di contratto, però è molto importante perché chiaramente ci sono degli abbattimenti di costi, ma soprattutto, come ho accennato anche qualche altro graffore, permette di fare le modifiche o le integrazioni del contratto, ad esempio classico, entro un nuovo reddito, si fa che si cambia il contratto, si mette un qualche clausola diversa e si fa in un nuovo telematicamente, quindi senza dover passare dal notario e può essere una cosa molto pratica, molto utile. Allora, poi ci sono due elementi facoltativi nell'ambito del contratto, uno è l'organo di gestione, il manager, però è chiaro che secondo me ci sono anche due reti che non lo hanno, dove c'è una gestione, diciamo, collettiva, però è chiaro che secondo me è un elemento di sesso piano legislativo, non è obbligatorio di fatto, però è molto importante, è fondamentale di fatto che l'abbiamo visto anche da ultramenti di prima. Un altro elemento che è facoltativo, ma ha una rilevanza significativa, è il fondo comune. Allora, perché è importante questa cosa qua? Perché praticamente col fondo comune è un costo del capitale sociale delle società per azioni. Allora, perché è importante? Allora, perché è un'attività finanziaria per la Rete 2, perché crea lo schermo patrimoniale tra la Rete e le imprese che li partecipano, è obbligo, e queste sono le regole che riguardano il fondo patrimoniale. Non è possibile richiedere la divisione del fondo, i creditori particolari delle imprese non possono aggredirlo, allo stesso modo, questo sempre l'intero teorico generale per sono tutta una serie di distinzioni, ma adesso per semplificare, i creditori della Rete possono aggredire fondamentalmente il patrimonio e lasciare questo livello che devo generare, e lasciare in pace le imprese della Rete. Poi ci sono alcuni casi specifici che esulano un po' da questa cosa, ma magari la profondiamo anche di nuovo. Questo l'ho parlato, anche gli altri relatori sul discorso delle Rete, di come si prendono le regole, cioè l'assemblea dei rettisti come decide, ok qua la legge consente una certa elasticità, cioè sono i componenti della Rete che si danno a queste regole, non c'è un meccanismo predeterminato. E' chiaro che ci sono le regole tradizionali dell'assemblea e delle società, ci possono anche essere regole pagamente un po' più fantasiose, magari prevedere, non so, una condizione fra il criterio della partecipazione all'utile, dell'investimento e dell'attività e dell'attività e dell'attività svolta, ad esempio. Andiamo a dare qui. Allora, questo l'aveva già detto anche gli altri, gli altri, l'organo comune cosa deve fare l'eserutore del contratto, quindi deve fare tutte queste cose qua. Sul discorso della redazione dello Stato patrimoniale, come dice giustamente Patrizia, per le Rete di contratto non è più obbligatorio, però rimane per le Rete di soggetto. Ecco, questa è una distinzione importante sulle due tipologie di Rete, c'è la Rete del contratto che sostanzialmente, facendo un paragone molto semplice, è paragonabile a un condominio, quindi c'è il gruppo dei condomini che sono le imprese e poi c'è l'appassatore di condominio che è il manager di Rete, però sostanzialmente l'appassatore di condominio non ha la sua personalità giuridica, ci sono solo i condomini e qui abbiamo detto che può essere importante, molto importante avere il fondo patrimoniale perché fa da schermo fra gli uni e gli altri. La Rete di soggetto è una società di tutti gli effetti, ha la sua, chiamiamola personalità giuridica, eccetera, eccetera, quindi è, come ha detto giustamente Patrizia, soggetta l'ordini fiscali, tributari, eccetera, eccetera. Allora chiaramente una Rete per i suoi principi dell'elasticità, flessibilità e potenzialità aggregativa deve permettere come di entrare e bisogna anche di uscire dalla Rete, perciò c'è la possibilità di recedere e queste sono le regole del recesso. Ecco, ok. Allora, e qui c'è un po' degli armoniticali della seratica, anche di altri regatori, cioè il mercato del lavoro, il diritto del lavoro all'interno delle reti. Tradizionalmente nel diritto del lavoro, questo di livelli, il dipendente che è sempre l'unico datore di lavoro, non ha mai avuto il numero. Con il discorso della Rete d'Impresa, che dice da una parte, codatorialità, questo è per tutte le reti, con assoluzione, solo per delle pericole, è stato introdotto il concetto di un dipendente che può avere più di un datore, anche uno, tre, quello che è. Allora, chiaramente giustamente i colleghi hanno tutto evidenzato molto bene anche sugli aspetti pratici, come funziona, e io vorrei portare l'attenzione su degli aspetti più, diciamo, teorici, che però potrebbero avere una rilevanza in domani dal punto di vista pratico. Allora, innanzitutto tenete presente che tutte queste cose sulla Rete d'Impresa sono argomenti un po' di frontiera, non c'è una giustizia consolidata, non ci sono aiutamenti consolidati e quindi è tutto da, diciamo, prendere molto con le volle, muoversi giorno per giorno e con molta attenzione di cautela. Detto questo, però, si possono utilizzare il distacco, la contatorialità, questo per tutte le reti, la costruzione delle volle è più solo per le reti evituali. In sostanza, che cosa vuol dire? Allora, vuol dire che nell'ambito del progetto di rete, questo ricordiamocelo sempre, nell'ambito del progetto di rete, non al di fuori di questo, cioè se il progetto di rete, come ad esempio è quello di Patrizia in ambito di rito, quello di Patrizia in ambito di rito, si, si, esatto, di Patrizia in ambito di experience, che è il push before business supervenziale, è ovvio che, come dire, un eventuale gestore dei dipendenti non può isolare il loro progetto di rete, quindi non si può prendere il proprio dipendente, mandarlo dall'altra parte per fargli fare una cosa che non c'è, per niente col contrario. Ma questo è il primo capo saldo, prima cosa. Seconda cosa, sul discorso della, come si può dire, della prevenzione, un altro aspetto che può essere molto importante è quello, come ha detto anche giustamente il Paterizza, di interfacciarsi con gli enti, quindi cosa possiamo fare? Andiamo dalla BTE, la direzione territoriale del lavoro, certifichiamo il contratto di lavoro di quel soggetto che vogliamo utilizzare all'interno della nostra rete, di modo tale che se non è nel confronto con l'ente, ci scompriamo tutta una serie di eventuali problematiche domani, o comunque ce ne sono tante. È chiaro che, ripeto, la quotidianità può offrire sempre e comunque un caso specifico, particolare, nel quale emergono problematiche che non si potevano affrontare al momento e che bisognerà affrontare caso per caso. Dal mio punto di vista, questa è chiaramente un'opinione mia, come legale, come giurista, mentre nell'impresa agricola, va molto bene il discorso della costruzione, della produttorialità, cioè c'è una maggiore flessibilità nella gestione della mano d'opera, nelle altre tipologie di rete, secondo me, bisogna porre più attenzione per tutta una serie di motivi. Ricordatevi sempre che il diritto del lavoro, anche per le relazioni, è un diritto molto rigido, c'è tutta una giurisprudenza molto, diciamo, fra virgolette, severa e allo stesso tempo tutto il mondo che proviene degli spettorati, eccetera, eccetera, ha comunque sempre una visione un po' su delle cose. Quindi muoviamoci con molta cantera e... Mi sono preso, devo... No, 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 no. Ve lo dico dopo, adesso lo prendo dopo. Vai. Allora, per chiudere, quindi, ok, questi sono altri elementi, no, sono abbastanza intuitivi sul discorso del contratto di rete, perché veramente le loro, la denominazione, l'indicazione, la serie, eccetera, eccetera. Allora, tornando un attimo al discorso del diritto del lavoro, tenete presente un aspetto che è molto importante. Il progetto deve essere collegato all'oggetto sociale delle imprese, per i motivi che dicevamo prima. Allo stesso modo, anche, chiaramente, quello che riguarda l'attività dei dipendenti, cioè, nel senso che tutto ciò che noi facciamo all'interno della rete deve essere genuino, reale. Se noi andiamo a fare, anche sulla gestione dei dipendenti, qualche cosa di progenuino, potrebbe dare addico a contestazioni. Cioè, tradotto, noi dobbiamo utilizzare la rete, innanzitutto, per il progetto. Se nel progetto c'è, in utilizzare il dipendente in una determinata maniera, per il disciplinare dopo, va bene. Non sforziamo, però, troppo il progetto di rete, cioè, va benissimo, mi scusate di fare un condiviso, è tutto, però troppo sul lato della gestione dei dipendenti, proprio per evitare questo aspetto. E... E... No, in che senso? Esatto, esatto, sì, esatto, 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 sì, 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 sì. Deve essere funzionale al progetto? Sì, poi, nell'ambito del progetto, se c'è l'utilizzare, bene, per me di creare le aziende, va bene. Però, e poi, comunque, dal più punto di vista, diventa fondamentale per la gestione dei dipendenti, interfacciarsi ai dipendenti, fare le certificazioni con la DTL e quant'altro, perché ci si... si previene, detto un po' diversamente, ci si parla di... non so, se avete domande, c'è la... Sì, no, perché giustamente, detta così, cosa diamo un po' di scena, domanda, sì, in effetti. Allora, la coassunzione significa proprio per le imprese agricole, che, cioè, tutte le aziende assumono quel lavoratore, quel dipendente, proprio, come dire, si è detto ovviamente, se fosse il viso, cioè, uno, la tua azienda, c'è un bra, c'è l'altro, c'è una roba bene. Invece, la tua tutorialità è un po' un concetto diverso, ed è in questo senso. Significa che, ti faccio un esempio, facciamo che ci sia un gruppo di imprese in ambito di live, ok? Vado sul cantiere, devo fare una casa, quindi ci sarà quello che fa lo scatto, l'impresa che fa lo scatto, ci sarà quello che dirà sui muri, l'impresa di cartetteria, quello che fa gli uffissi, quello che fa l'interno, il parlamentista, eccetera, eccetera, ok? Beh sì. E qui ci sono qualche imprese sui dipendenti. L'accordo di realità significa che il datore di lavoro, per dire di quello che fa lo scatto, l'impresa lo sfista, può dare direttiva anche agli altri, ok? Che non sono sui dipendenti, però sono del progetto di rete. E quella è la differenza. Invece il distacco è quando, come ha detto giustamente, Patrizia, io che sono ruspista, ti mando a te che sei un parlamentista o un mio dipendente. È un po' differente. Perché in alcuni progetti di rete, diverse imprese si possono provare sullo stesso scenario, sullo stesso luogo e possono essere come noi tutti qua siamo adesso, tante imprese si trovano nello stesso posto e magari c'è solo un datore di lavoro che dà la direttiva a tutti e tutti le devono rispettare. Cosa che normalmente uno dice io rispetto la direttiva e sono il mio datore. Tu cosa vuoi? Mica sei il mio datore, no? Questa è un po' la differenza tra distacco e questo a livello divulgativo, poi bisogna vedere sicurezza, però insomma, per capirci, questa è un po' la differenza. Grazie Alessandro. Se qualcuno ha delle domande sul contratto di rete, le garanti del presidente e gli assolenti sono stracchi, quindi anche, diciamo, individualmente possono confrontarsi con Alessandro, Eugenio, Matrizia e Giovanni. Introdurrei a questo punto, se non avete, se i nostri relatori non hanno altro da aggiungere, diciamo, rispetto a quanto indicato, ricordisco che lo stai salvando pubblico.